E' stato a bersaglio di ignoti che ne hanno danneggiato le portiere l'automobile del sindaco di Gela, Domenico Messinese. Segni di calci e pedate sulla Fiat Marea Station Wagon, che il primo cittadino aveva parcheggiato in via Scontrino, proprio nei pressi di Palazzo di Città. L'episodio è stato regolarmente denunciato alla polizia, afferma il sindaco. Non è certo la prima volta che subisco intimidazioni o insulti a partire dai social network e poi anche attraverso messaggi su WhatsApp. Mi è stato persino augurato di non vedere il 2017. Ricordo inoltre, continua il primo cittadino, di quando mi fu scritto di non stare tranquillo. Mi preoccupa il clima di odio alimentato sui social contro la mia persona che potrebbe ispirare chiunque a commettere gesti irresponsabili sempre più pesanti. Sono stato insultato con gli epiteti più spreggevoli e mi domando a cosa porterà questa campagna di odio. Immediata è arrivata la reazione di sviluppo democratico che esprime incondizionata solidarietà e vicinanza al sindaco Domenico Messinese per le ennesime minacce e fatti inquietanti che si sono verificati, leggiamo in una nota inviata alla redazione. Sviluppo democratico condanna fortemente i vili gesti compiuti a suo danno e auspica vivamente che certi spreggevoli episodi estranei alla cultura democratica della nostra comunità non si ripetano più e che si spazi via questo clima di intimidazione permanente frutto di una campagna diffamatoria alla persona che in genere in menti labili gesti vergognosi che non possono trovare alcuna scusa. Si legge ancora nel documento. Sviluppo democratico fa appello alla prefettura di Caltanissette e alla magistratura di intraprendere tutte le iniziative atte a garantire la necessaria serenità al sindaco messinese nello svolgimento della sua attività istituzionale. Sviluppo democratico nel ribadire solidarietà e vicinanza al sindaco Domenico Messinese è convinto che questi meschini attacchi non scalfiranno di un millimetro il progetto di cambiamento che gli onesti cittadini di Gela gli hanno affidato e il suo impegno è instancabile per risollevare le sorti di una città prostrata da tanti problemi economici e sociali conclude la nota del movimento di cui fa parte il sindaco di Gela.